Bella a tutti i forniters, benvenuti e bentrovati su LeonTube, eccoci in questo video per andare a fare a vedere gli incarichi settimanali della settimana 10, sono abbastanza semplici come al solito, raccogli oggetti ai punti di scavo degli scagnozzi sono questi indicati qua, gli oggetti sono quelli che troviamo sia nei punti sia quelli che lasciano gli scagnozzi distanza percorsa mentre hai scudi al massimo, quindi quando abbiamo il 100 di scudi dobbiamo fare 50 metri, spendi lingotte basta andare a comprare sia negli automatici o dai personaggi infliggi danni ai giocatori mentre usi il mirino, qui ci serve un'arma quindi dobbiamo andare da un personaggio in modo più veloce e comprarla un'arma se c'è col mirino oppure trovarla, ce ne sono abbastanza comunque, ricarica armi entro 30 secondi dell'avere danneggiato un avversario anche qui andiamo dove ci sono gli scagnozzi anche nei centri di scavo, li colpiamo e ricarichiamo subito senza prima scaricare l'arma, quindi sono incarichi abbastanza semplici ragazzi, se questo video vi è stato un po' d'aiuto, vi è fatto piacere mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti